Ciao a tutti, benvenuti in questo video dove andremo a vedere insieme i migliori punti per fotografare Bergamo, in particolare Città Alta. Non sto a spiegarvi come si raggiunge Città Alta in quanto ormai tutti abbiamo un navigatore, l'unica premessa che vi voglio fare è quella di fare attenzione, perché? Perché Città Alta è spesso soggetta a ZTL, quindi una volta che voi arrivate ad esempio dalla stazione dei treni di Bergamo, si percorre Viale Roma, che poi diventa Via Vittorio Emanuele, Quando arrivate più o meno all'altezza della funicolare di Città Alta ci sono le indicazioni della ZTL. Fate attenzione perché una volta che passate, se non avete il permesso, sicuramente vi arriva la multa. Ora vediamo se riesco a trovare dove c'è il cartello della ZTL, dovrebbe essere eccolo qui. Qui poi sotto solitamente c'è attivo o non attivo, quindi diciamo che una volta che voi arrivate qui, avete ancora la possibilità di tornare indietro e evitare che vi arrivino delle multe. Se la ZTL non fosse attiva, voi potete tranquillamente percorrere tutta Viale Vittorio Emanuele fino ad arrivare a Porta Sant'Agostino. Voi passate sotto, arrivate dall'altra parte e qui avete le due possibilità, andare a destra in zona fara o andare a sinistra. Il parcheggio lo si può trovare in tutte e due le zone, se ci andate di sera è più probabile trovarlo di qui. Di qui spesso è pieno, la via che circonda le mura è sempre piena. Una volta trovato parcheggio, quindi abbiamo detto o su via della fara o su viale delle mura, arriviamo alla nostra città alta e abbiamo la possibilità di iniziare ad andare a fotografare. Per chi invece dovesse decidere, no io preferisco evitare di salire in macchina perché non so bene, ma lo ZTL è attivo, non attivo, non vorrei trovarmi delle sorprese. Una volta arrivati a questa rotonda, ve la faccio vedere bene dalle immagini, quindi arriviamo, abbiamo detto, là in fondo c'è la stazione dei treni, è un lunghissimo rettilineo, arrivata la rotonda, se voi tenete la destra, andate verso città alta, che è esattamente questa qui sopra. Se voi prendete l'uscita sinistra invece vi intrufolate in questa galleria, galleria cortissima, sbucate da questa parte, andate dritti e da qui in poi iniziano una serie di parcheggi infiniti, qui addirittura c'è il centro sportivo di talcementi, con le piscine, quella zona qui è veramente un parcheggio unico. Voi potete tranquillamente parcheggiare qui, qui ci sono le varie viette da poter salire a piedi, ad esempio questa, vedete che è anche tutta segnata, e sbucate esattamente sotto le mura. Arrivate esattamente a questa altezza, sbucate fuori da qui, sono un po' di gradini, ma niente di particolare. Siamo esattamente sotto le mura di città alta. Una volta arrivati qui, voi proseguite, andate verso sinistra, seguite sempre la via, e arriviamo esattamente qui, in questa zona, dove c'è Porta Santa Alessandro. Qui arriva uno dei nostri punti forti, quindi ricapitolando velocemente, se saliamo a piedi arriviamo direttamente in questa zona, se invece decidiamo di salire in auto abbiamo la possibilità di salire in auto. Ricordatevi però che se arrivate di giorno, i parcheggi sono con o a pagamento o disco orario, adesso non so bene, io di giorno parcheggio sempre sotto, così non ho problemi di orario, non ho problemi di parcheggio, sotto si trova sempre, e sono tranquillo. Mentre di sera si può salire dalle 8, mi sembra, dalle 20 in poi, il parcheggio non si paga più. Bisogna essere fortunati e trovarlo. Quindi nel momento in cui dovessimo trovare parcheggio, o qui sul viale delle mura, o sotto, noi ci possiamo incamminare, seguiamo tutto il viale delle mura, e prendiamo come destinazione Porta Santa Alessandro. Che è esattamente questa. Una volta entrati, andiamo subito a prendere il nostro miglior punto. Eccoci qua. Allora, se arriviamo quindi a piedi dalle mura, seguiamo, arriviamo qui, entriamo e ci troviamo in questa zona. Se invece saliamo a piedi e arriviamo sotto le mura, come vi avevo detto prima, quindi arriviamo dal lato opposto, sempre a questo incrocio ci troviamo. Da qui si sale fino a dove la strada si divide, e cioè qui. Allora, se vogliamo rimanere bassi, già che ci siamo, possiamo fare magari le foto Chiesa di Santa Grata, che è esattamente questa tratteggiata, è la scala. Noi ci mettiamo qui in cima, ed è questa. Particolare, con tutta la scalinata fatta a sassi, abbiamo la visuale di tutta Bergamo dietro. Si possono fare delle belle foto anche da qui. Una volta fatte le nostre foto alla Chiesa, possiamo tornare indietro, quindi abbiamo detto a dove la strada si divide, che è esattamente questo punto. Qui è dove eravamo ora per fare le foto alla Chiesa, qui invece è dove si sale. Qui è la zona, secondo me, migliore per fare le foto a tutta Città Alta dall'alto. Ed è il punto esattamente questo, il punto Belvedere. Quindi si segue tutta questa strada, via San Vigilio, e si arriva esattamente in questo punto. da qui, come potete vedere, si vede tutta Città Alta, con le sue torri, la sua basilica, la chiesa di Santa Grata, che abbiamo visto prima, è questa qui sotto. Da qui abbiamo la possibilità di scattare questa foto. Consiglio di non utilizzare un grandangolo, perché altrimenti saremmo veramente piccoli. Io qui, se non ricordo male, ho usato un 85 mm su full frame. Quindi ecco, cerchiamo di stare dai 50 mm in su, con un 70-200 magari addirittura si ha la possibilità di zoomare ancora di più su quelli che sono i particolari delle torri, del campanile. Vedete un po' voi, un po' quello che vi piace di più. Questa, soprattutto, di notte, è il punto migliore, perché si accendono le luci. Ora io qui ci ero andato apposta per fare le foto alle varie luci. era quasi tutto spento. Ci dovrò tornare, non ci sono ancora tornato, però vedete la differenza tra qui, dove abbiamo sotto Bergamo, con tutte le lucine, mentre invece quella di giorno, sì, carina anche quella, però un po' meno dettaglio. Ecco. Chiudiamo, chiudiamo. E questo è, secondo me, è il miglior punto per fotografare Città Alta. Il Belvedere è senza dubbio il punto migliore. Ci sono però molti altri punti e sono tutti verso il centro di Città Alta. E siamo esattamente qui. Vedete le linee verdi? Sono le mura che delimitano appunto Città Alta. Verso il centro di Città Alta troviamo Piazza Vecchia. Piazza Vecchia è la piazza più famosa, quella più visitata e fotografata in assoluto. Vedete appunto la famosa fontana con il campanile. Sono foto che sicuramente nel momento in cui andate a cercare Città Alta trovate, vedete, qui ho fatto una lunga esposizione per prendere il movimento dell'acqua che esce dalla fontana con dietro il campanile. Qui c'era un evento, c'erano un sacco di alberi posizionati. spesso fanno queste cose, spesso in questa piazza mettono parecchio verde, fiori, piante particolari. ne ho altre, questa è la fontana vista da davanti, noi prima invece eravamo qui e guardavamo in questa direzione, mentre qui era sotto Natale, qui abbiamo sempre la nostra fontana, il nostro campanile. se noi da qui, una volta fatte le nostre foto, dalla piazza, quindi fontana e campanile, che sono sempre, come vi dicevo prima, i due soggetti più fotografati, ci dirigiamo verso questa zona. Di qui andiamo esattamente verso Cappella con Leoni, che è questa. Cappella con Leoni, l'abbiamo qui. Si può fare una foto di questo tipo, sempre di sera, perché a me Città Alta piace la sera, non ci vado praticamente mai, quasi mai di giorno. Ci vado la sera perché appunto mi piace il discorso delle lucine, e cercare di tirar fuori delle foto più particolari rispetto alla classica foto che si fa durante il giorno. Questo è il battistero, battistero che possiamo vedere qui. Potete vedere, c'è la luce che arriva da dietro, quindi è comunque parecchio illuminato. Questi sono i punti centrali. Ah, stavo dimenticando, c'è anche il lavatoio, l'antico lavatoio, che è qui esattamente la via prima, quindi Piazza Vecchia, noi adesso eravamo qui. Se voi prendete la via, girate qui, e arriviamo all'antico lavatoio. Antico lavatoio, io non l'ho mai fotografato, devo essere sincero, però è qui sotto, appena riesce a caricare, eccoci qua. particolare, classico lavatoio, qui addirittura vedo che ci sono dentro delle piante, non vi so dire se ci sono ancora, se era un evento del momento. Già che ci siete, potreste fare un giro anche qui. Bene, qui erano le zone, i migliori punti fotografici all'interno, poi chiaramente ci sono un sacco di viette particolari, vi ci potete perdere all'interno di Città Alta, sta a voi poi vedere, già che ci siete, fate un giro, giratevela tutta, è tutta bella. Poi io che sono qui della zona, poi dopo un po' sono sempre quelle cose, giustamente, però chi ci arriva, chi arriva da fuori, viene a fotografarla, a visitarla una volta, andate, fatevela, giratevela tutta, tanto non è grande, non è per niente grande. Bene, ora ci spostiamo invece sulle mura, questo punto, porta San Giacomo, da porta San Giacomo, come voi potete vedere, qui è il famoso viale, dove potreste passare con la macchina, per andare a parcheggiare, e siamo qui. Passiamo sotto, andiamo dall'altra parte, quindi da qui, sicuramente avete l'altra visuale, di porta San Giacomo, che è decisamente migliore, che dall'altro lato, quindi qui qualche foto, ve la potreste fare tranquillamente, ma il punto forte, è dietro di noi. Scendiamo un pelo, e abbiamo questa visuale, su Viale Vittorio Emanuele, che è il viale che si percorre, salendo in auto. Qui in fondo, dove c'era la stazione dei treni, da qui si può fare questa fotografia, sempre di notte, sempre lunghe esposizioni, scie delle macchine, le lucine, mentre questo è l'aeroporto, quindi vedete che proprio da questo punto, avete la via dritta, su tutta quella, che è la via principale di Bergamo, e da qui di sera, avete la scia delle macchine, che a me piace, a me piace molto fotografare la scia delle macchine, mi piace fotografare le luci, e quindi ecco, questa è la foto, che voi potreste fare, da questo punto, che appunto, è questo qui. Ci sono ancora un paio di punti, la funicolare, e la funicolare, non so a livello di foto, cosa potrebbe uscire, cosa no, però qui vedo che c'è una porticina, quindi magari ci si potrebbe mettere, tra queste sbarre, mentre la funicolare sale. Se andiamo dall'altro lato, di città alta, rispetto alle mura, abbiamo, la fontana dell'antro, la fontana dell'antro, l'ingresso, non ci sono stato, penso, guardando da qui, vedendo che qui c'è il cartello, con scritto fontana dell'antro, dovrebbe essere qui, o questo cancellino, o saliti da queste scale, forse qualcosa dietro. Che cos'è la fontana dell'antro? Cerchiamo fontana dell'antro, come potete vedere, non è altro che una fontana sotterranea, ci sono alcuni periodi durante l'anno, in cui viene aperta, si può visitare, e a me piace, non ho ancora avuto l'occasione, di andarci, di fotografarla, ma come potete vedere, siamo proprio sottoterra, quindi proprio nel Bergamo sotterranea, e come potete vedere, c'è l'acqua, c'è la sua struttura della fontana, è parecchio interessante. Bene, io penso di avervi fatto vedere quelli che secondo me sono i punti top, i punti migliori, per fotografare città alta, o da città alta. Se vi è piaciuto il video, venite a fare visita, fotografate, visitate, vedete un po' voi quello che vi piace di più. Ciao a tutti, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti